Buonasera a tutti, vi ringrazio con la regga per l'altra pagata di giro di riandata, ci sono plegati da settembre di semina, rimando inizio a tutti, a tutta questa sera, gli altri presenti di regga, dopo la battuta d'avresta e poi da tutto il contegno di nostra sforza è chiamata da professore, vi ringrazio con la prova di cuore e di carattere. In generale, come sempre, tutti con la regga è il nostro sforzo, auguriamo tutti i latimedio e principiando la presentazione delle squadre. A.F. E.P. con il numero 12, Bontolotti e Samuele, numero 10, Bontolotti e Samuele, numero 10, Bontolotti e Pagliari, numero 12, Bontolotti e Pagliari, numero 15, Bontolotti e Pagliari, numero 13, Bontolotti e Pagliari, numero 6, Bontolotti e Pagliari, numero 11, 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 Bontolotti e Pagliari, Il numero 20 è un ragazzo della canna messa, il numero 44 è un ragazzo della scelta, l'allenatore secondo l'entri di parceria. Il problema che è la gesta del dittore è una nostra scuola di ammigliarmi che ha la mano amata con il numero 88, la questa è la sua scuola di un'esilità, la mia 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 scuola di un'esilità. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.